Cloverbyte e Akapura Games hanno annunciato che il loro attesissimo titolo Grime arriverà su PC il 2 agosto 2021. I team hanno rilasciato un nuovo trailer. In Grime controlli un'incarnazione senza nome della distruzione e ti fai strada attraverso un paesaggio aberrante dove dominano mostri formati dalla roccia. Armato con una varietà di armi viventi e una testa di buco nero, consumi l'essenza dei caduti per rafforzare la tua nave e sbloccare potenti potenziamenti. Yarden Weisbrot, direttore di Grime, ha dichiarato Il mondo di Grime era quello che ho sempre voluto sperimentare nel mio gioco. Vedrai che ho tratto ispirazione dai miei giochi preferiti come Legacy of Cain e Salt and Sanctuary, quasi come una fusione di tutte le mie fantasie e ricordi dei titoli preferiti racchiusi in un'esperienza giocabile. Abbiamo aggiunto i nostri elementi unici e strani all'universo, includendo armi con personalità distinte. Un mondo distrutto, desolato ma vivo e un sistema di parata non convenzionale, in cui usi letteralmente la testa per assorbire gli attacchi in arrivo o rindirizzare i proiettili, per citarne alcuni. È davvero un'esperienza viscerale. Ecco alcune caratteristiche del gioco. Surrealismo strabiliante. Scopri misteriosi segreti in grotte piangenti e deserti coperti di volti. Incontra personaggi ultraterreni in diverse civiltà in un mondo organico e interconnesso, il tutto reso in 3D ultraterreno. Affronta i nemici nati dal mondo stesso e ingoiali. Combattimento che sfida la morte. Punisci i nemici parando i loro attacchi. Distruggili da terra o addirittura in volo e assorbili per aumentare la tua forza mentre fai guerra a un mondo vivente. Armi viventi. Scambia facilmente armi fatte di creature viventi che mutano forma durante il combattimento. Dalle spade artiglianti alle fruste di millepiedi. Progressione di abilità. Dai la caccia e assorbi mostri impegnativi per migliorare le tue abilità e portare una vera personalizzazione al tuo stile di gioco. Sfida boss sorprendenti. Sconfiggi creature dozzine di volte la tua taglia. Adattati alle loro strategie, resisti ai loro assalti e consumali per ottenere abilità rivoluzionari che influenzano sia il combattimento che l'attraversamento. Se la notizia ti è piaciuta, lascia un like e un commento.